Il prossimo 19 ottobre le sedi delle pubbliche assistenze saranno aperte al pubblico in contemporanea in tutto il Piemonte per la seconda edizione dell'Open Day Ampas, organizzata in occasione del 120esimo anniversario di fondazione dell'Ampas. Nella passata edizione hanno partecipato oltre 7000 visitatori. Corsi di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e su persone adulte, simulazioni di interventi di soccorso in emergenza, nozioni di primo soccorso e massaggio cardiaco, corsi per l'uso del defibrillatore, percorsi sensoriali relativi allo stato di ebrezza e ancora visite guidate delle sedi con informazioni sui presidi, la strumentazione delle ambulanze e su come diventare volontari soccorritori. Sono alcune delle numerose attività organizzate per il secondo Open Day Ampas che si svolgerà il prossimo 19 ottobre e che sarà anche l'occasione per festeggiare i 120 anni dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. L'Ampas, Comitato Regionale Piemonte, rappresenta 80 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.658 volontari. La giornata di Porti Aperte, che nella passata edizione ha visto la partecipazione di oltre 7000 visitatori, ha come obiettivo quello di promuovere il volontariato, la cultura del primo soccorso, la tutela della salute e la prevenzione sanitaria. Saranno previste inoltre attività per le scolaresche, informazioni sulla chiamata di soccorso, sul numero unico di emergenza 112 e sul sistema 118, trucca bimbi, attività con le unità cinofile e altro ancora. Il momento istituzionale dell'Open Day Ampas 2024 sarà il premio Essere Ampas, riconoscimento alla volontaria o al volontario che si è particolarmente distinta o distinto per merito oppure per storia anzianita di servizio. Il simbolico premio, istituito in occasione del 120esimo anniversario di fondazione dell'Ampas, andrà a 80 volontari che, a discrezione delle associazioni di appartenenza, maggiormente rappresentino i valori di umanità, volontarietà, solidarietà e gratuità che caratterizzano il movimento.